Il terzo valico, allora io ho dei dubbi che si possa riuscire a realizzare nei tempi che si è detto, tanto più che poi ci vuole minimo un anno per quanto riguarda poi tutte le verifiche, controlli, le autorizzazioni per far veramente passare i treni e quindi penso che ci vorrà ancora qualche anno in più di quello che forse si immaginava. Ma non direi che questo è il grande problema, perché perdere un anno, due anni in più non è questo. No, ma comunque noi abbiamo un vincolo, quello che l'opera sostanzialmente deve essere finita e collaudata entro giugno 2026 e questo ci siamo impegnati anche ultimamente, perché se non sarà così il governo italiano dovrà rinfondere 4 miliardi all'Europa, per cui i temi sull'accelerazione è un tema costante, domani farò una riunione sul terzo valico, ne facciamo un'altra a settembre, ci sono dei problemi anche di carattere meccanico, perché il tracciato purtroppo è stato sbagliato 20 anni fa e non è modificabile, perché ormai gli scavi sono all'85-87%, mancano sostanzialmente in una canna dei pezzetti che tutti messi insieme sono inferiori ai 6 km, sull'altra più o meno sui 5 km, il problema vero è che abbiamo avuto per 3 km, praticamente siamo passati sulla faglia che c'è tra gli Alpi e il Pennini, le Alpi si posano sopra gli Appennini, creano delle pressioni enormi e quindi abbiamo avuto quel problema con la talpa che ha dovuto essere sostituita la testa, è stata ricostruita, quindi solo i tempi di realizzazione del nuovo macchinario hanno impiegato alcuni mesi e devono cambiare i conci della galleria che sono stati già ordinati e saranno consegnati da qua nei prossimi giorni, finiranno le consegne penso nel mese di agosto, perché prima si procedeva mettendo un concio ogni 30-40 metri, adesso si procede mettendo un concio ogni metro e mezzo, quindi con ovviamente degli aumenti di costi, ma è chiaro che noi abbiamo la necessità di portare le due canne, l'altra canna non ha questi problemi, ma sapete che per motivi di sicurezza, per poter mettere in linea la galleria abbiamo bisogno di entrambe le gallerie, perché in caso di incidenti o altre cose le due gallerie sono collegate. Sono perfettamente d'accordo, è la stessa cosa che dicevo su sopraelevata, ad esempio, e quindi noi abbiamo la necessità di avere dei bypass, su questo però noi abbiamo verificato anche sul fatto dell'amianto, il progetto iniziale prevedeva il 5% di terra amiantifere, siamo arrivati al 25%, questo ha aumentato i costi, anche perché lo smaltimento è complesso in Italia, alla fine buona parte va a finire in Germania, dove è molto meno complesso lo smaltimento e quindi c'è un problema sia di costi, sia di procedure, perché sapete che quando si trova l'amianto giustamente, a tutela di tutti, bisogna adottare delle procedure che sono molto più conservative rispetto a quando trovi altro tipo di terre di scapo.